Ciao a tutti amici, ben ritrovati in questo nuovissimo video amanti dell'oroscopo e per il segno della vergine, benvenuti e qui su Pausa Caffè andremo a vedere cosa succederà nel mese di settembre che vi dico subito che sarà un mese molto intenso sia da un punto di vista professionale che relazionale, quindi il lungo anello di sosta in bilancia avrà un impatto importante su tutto ciò che concerne diciamo la sfera materiale, i tuoi pensieri, i tuoi valori, il rapporto con il partner. Mercurio infatti per buona parte del mese sarà in aspetto in opposizione con Giove a indicare che la comunicazione con gli altri tenderà ad essere molto movimentata e decisamente significativa. Un'occasione per osservare le cose attraverso una prospettiva più ampia e forse scoprire le tue motivazioni più profonde rispetto a un rapporto importante. Lo scambio di opinioni potrebbe riguardare i tuoi valori, le tue risorse, i tuoi sentimenti, tutto quello che provi ma potrebbe anche esserci un cambiamento nella tua situazione economica che diciamo forse potrebbe anche essere legata a un cambio di lavoro o semplicemente scelte che riguardano i tuoi beni immobili o patrimoniali. Marte è entrato nel frattempo in gemelli e fino al marzo del 2023, quindi parliamo di parecchio tempo, porterà un bel po' di movimento nella tua vita. Un movimento che in alcuni casi potrebbe rivelarsi un po' stressante e non è nemmeno da escludere che ci siano alcune decisioni in ballo che potrebbero generare un po' di confusione. E che si tratti di situazioni familiari o professionali che siano o anche affettive, il risultato potrebbe essere quello di sentirsi in corsa con il tempo e di ritrovarti un po' più stanco e affaticato. Il tuo supporto di questo mese ci sarà venere nel segno, un transito che può esserti sicuramente d'aiuto per le faccende del cuore. Una passione, un sentimento che si ravviva, una relazione che prende quota o un nuovo incontro sono soltanto alcune delle possibilità che attendono i nativi della Vergine. Passioni e desideri che però dovranno essere indirizzati verso le persone giuste perché la contemporanea quadratura di Venere e Marte può sicuramente creare qualche problema. A metà mese in particolare non è nemmeno da escludere qualche momento complesso e insidioso per i rapporti e gli affetti. Potrebbero esserci possibili frizioni con il partner o comportamenti semplicemente poco chiari. Perché le forze che parlano di amore, di sessualità e sensualità sono in contrasto tra loro e potrebbe non essere così facile vivere troppo serenamente le relazioni. Forse non sarà il tempo giusto per ricevere conferme importanti ma può in qualche modo esserlo per cominciare a capire in quale direzione si vuole andare. E questo diciamo è tutto per quanto riguarda il mese di settembre, poi ovviamente in caso vediamo il prossimo mese se ritornerò ancora con l'oroscopo. Nel frattempo vi ringrazio per la visione e l'attenzione di questo video. Noi ci sentiremo alla prossima, mi raccomando vi aspetto sempre su Pausa Caffè.